Siamo passati dal soleone dell'estate, globalmente più calda mai registrata fino a oggi, a un autunno invernale, caratterizzato da intensi nubi fragi e dal loro impatto idrogeologico su persone e territorio, oltre che da temperature sotto le medie stagionali. Una capriola meteorologica che si inserisce tra gli eventi estremi della crisi climatica, alimentata dal nostro uso dei combustibili fossili. Cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato futuro? Anche nei prossimi giorni la circolazione a grande scala non subirà grosse variazioni. L'anticiclone dell'Azzorre si espande verso nord fino a raggiungere la penisola scandinava, posizione nella quale favorirà l'afflusso di aria fredda sul Mediterraneo centrale e sulla nostra penisola. Questa mappa si riferisce alla situazione prevista per il mercoledì 18, quando è atteso anche lo sviluppo di una ciclogenese sull'Italia con tempo instabile e con possibilità di rovescio temporali più frequenti sui versanti aderiatici. Questa circolazione favorirà anche temperature al di sotto delle medie stagionali. L'estate 2024 è stata la terza più calda in Italia in 220 anni di misurazioni, caratterizzata da un'estrema siccità, ulteriore spia dell'accelerazione del riscaldamento globale.